Mi ricordo che ho avuto grande libertà di essere anche scomodo e è una cosa che poi vi consiglio vivamente di non perdere dopo perché poi è facile rischiare in qualche modo di, fuori da qui, di farsi un pochettino fagocitare da delle regole che invece qui non valgono. Ecco qui, mi ricordo che non avevo regole, ma nessuno ce le aveva. Mi ricordo che Emma qui ha potuto iniziare a imporre la sua anima un pochettino rock. Stefano, per esempio, ha iniziato da lì, da qui, a diventare poi quello che adesso lo porta oltre ad essere un grande ballerino, ma anche uno showman consumato. Niggiotti stesso era uno che aveva un'anima blues molto forte che gli è rimasta intatta qui. Quindi qualunque cosa facciate, chiunque voi siate, ecco, fuori da qui non ve lo dimenticate. Vi sentite evoluti, vi si sono allargati un pochettino le spalle. Sì, sì. Sì, sì.